Il film parla di una società capitalista che smette di produrre sogni e desideri per la sua popolazione o perlomeno per la parte più giovane e più formata della sua popolazione. Però generazione perdita io credo che no. Però perdita e all'altro sito, non ci preoccupate. Sì, ci siamo perditi. È che questa educazione che ci hanno dato. Ma è che perdita, un po' frustrata. La generazione frustrata? Beh, in parte sì, perché ha dovuto prendere atto che un sogno di mobilità sociale che gli era stato venduto non esiste più. Sì, o sea, sì che llega un momento che ti senti, ti dà rabbia e coraggio e dici, buah, e vuoi esplotare. Ciò che è interessante del film che avete visto, che abbiamo visto, è proprio questa capacità di tenere insieme questi due aspetti. Cioè, da un lato il profondo sentimento di umiliazione generato dal collasso di un sogno e dall'altra la capacità di questi giovani di riprendere in mano la propria vita, fra mille sofferenze, e provare a rimmaginarsi. Cosa rimarrà e che cosa aprirà in termini di scrittura collettiva della storia? Questo sforzo e l'immaginazione lo sappiamo, però è importante cogliere il momento in cui siamo, il momento in cui appunto si prova a scrivere insieme pezzi della propria vita e pezzi della società che noi tutti abitiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.